Come è un uomo che violenta psicologicamente e fisicamente un'altra donna? Schiacciare l'altra persona per potersi far valere e rendersi importante, questo è il primo campanello d'allarme da valutare, da prendere in considerazione. Ci occupiamo di donne da tantissimi anni, tante sono le campagne che abbiamo fatto contro la violenza sulle donne e anche per i bambini, è una nostra associazione che si occupa molto anche di bimbi, abbiamo realizzato tantissimi progetti. Un evento che parla di violenza e delle sue cicatrici nel corpo e nell'anima di una donna. Violenza è quella psicofisica del tumore al seno che in Italia viene diagnosticato a circa 50.000 donne ogni anno, confermandosi il big killer più letale del genere femminile. Violenza è quella di un uomo, oltre 100 donne ogni anno vengono uccise, quasi sempre da coloro che sostengono di amarle. Questo è il tema di Women for Women e Guest Violence, al quale ha partecipato attivamente anche il maestro Olafo Crotonese, Michele Affidato, da sempre estremamente sensibile a questi temi. Affidato ha realizzato il premio Camomilla, quello che i promotori dell'iniziativa hanno definito una vera e propria scultura, capace di rappresentare al meglio l'evento. La scultura raffigura due mani unite con al centro il fiore di Camomilla, che si ispira alle virtù terapeutiche della pianta e rappresenta il concetto di solidarietà. Il premio Camomilla, realizzato dal maestro Michele Affidato, è stato consegnato alla modella ambasciatrice di Miss Italia contro la violenza, Jessica Notaro, Alla professore Michelino De Laurentiis, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia Senologica dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, responsabile della ricerca del vaccino contro il tumore al seno. Alla direttore centrale DAC, direzione anticrimine, prefetto Vittorio Rizzi. Alla direttore scientifico del mensile Ok Salute, professor Antonino Di Pietro, che ha ricevuto la scultura direttamente dalle mani del presidente della Lilt, Francesco Schittulli. Premiati anche Paola Ferrari, Francesco Testi, Veronica Maia, premiata proprio dalla maestro Michele Affidato, Rossella Brescia, Elena Santarelli, Valeria Gracci, la vocalista Eddie Giordano, il direttore generale di Salva Mamme, Katia Pacelli, il coordinatore nazionale di Avtea, Emiliano Paolini, Carmen Mara e Michele Pisano, dell'omonimo centro medico, e Andrea Petrangeli, di Banca Generali. Mettere a disposizione la mia arte per tematiche così delicate e attuali, commento affidato, mi fa sentire vicino a chi ogni giorno lotta con questi due mali. Allo stesso tempo, la scultura che ho realizzato vuole anche essere un riconoscimento a tutte le personalità, che dedicano la loro vita alla prevenzione del tumore al seno e lottano contro la violenza sulle donne. Sono molto felice di rincontrare stasera Michele Affidato, perché lui è un caro amico, che rincontro per l'appunto questa sera dopo un po'. Lui pensa anche che ha realizzato le fedi del mio matrimonio, quindi c'è veramente un sentimento particolare che mi lega a lui. Ho appena scoperto che riceverò un premio realizzato dalle sue abili, geniali, straordinarie mani, quindi sono molto curiosa di vederlo, soprattutto di esibirlo e di portarmelo a casa come un altro dono dell'amico Michele. Grazie a tutti. Grazie a tutti.